Raggiungere la vetta vale ogni sacrificio, il silenzio, la vista, arrivare in cima, guardare il mondo da un punto che nessun altro è, vale ogni follia che l'alpinista fa per arrivare in cima. Quella per la montagna è una passione che ti prende anche in poco tempo, ce lo racconta Daniele Gelli, alpinista e socio del club alpino Sezione di Arezzo. La stessa passione che aveva conquistato Matteo Pessi, il giovane rettino che ha perso la vita sul Cervino, che aveva scelto dopo pochi mesi di questo sport estremo di lasciare il calcio per coltivare questa strada. Di incidenti come quello che purtroppo è costato la vita a Matteo ne sono avvenuti molti, anche ad alpinisti esperti. Ecco perché la raccomandazione è quella di non sottovalutare mai la montagna. Più in alto andiamo e più le variabili sono tante. Nel momento in cui ci sono variabili dobbiamo avere rispetto, conoscenza, preparazione infinita e tante volte non basta nemmeno quella. Non ci sono regole fisse, non c'è una regola che dobbiamo legarsi. Ci si lega perché permette un certo tipo di movimento e un aumento della sicurezza, assolutamente. Ma ci sono situazioni in cui forse è meglio slegarsi, però richiede comunque sia una conoscenza di tutto quello che sta alla base, ovvero materiali, tecniche, movimentazione, che poi ti permette di saperlo usare. La vetta del Cervino da alpinista come si può descrivere come meta? Si può definire la vetta. A volte è la vetta della vita per molti alpinisti. Il Cervino è la montagna madre ancora, è una delle montagne più difficili del mondo ancora oggi. benché la facilità di raggiungimento ce la faccia sembrare quasi un luogo semplice, ma ancora oggi è una montagna ancora estremamente severa, difficile. La piramide del Cervino è uno di quei progetti che ogni alpinista con la maiuscola tiene nel cassetto per poter realizzare almeno una volta nella vita. Tanti i tutorial che ormai oggi sono disponibili in rete, ma l'attenzione è sempre da tenere molto alta. Chiaro che un alpinista formato, che ha un'ottima formazione, può anche guardarsi una via, una manovra su YouTube e fare delle valutazioni in base alla formazione che ha. Certo, se pretendiamo di alzarsi la mattina, guardare un video su YouTube e sentirsi dei alpinisti, ci sono delle problematiche di fondo. In Italia c'è una legge che dice che gli unici professionisti della montagna sono le guide alpine, sono professionisti formati con capacità enormi che adibiti a portare anche gente con basse capacità tecniche in montagna, in totale sicurezza. Poi, vero, la montagna non lo sa che siamo bravi o non siamo bravi, quindi purtroppo storicamente abbiamo visto anche che sono morti grandi guide o grandi soccorritori alpini, però diciamo che una guida sa valutare se il meteo sta cambiando, se è l'ora di tornare indietro, se non sei in grado nemmeno di metterti ai piedi uno scarpone per poter camminare. Sono dei professionisti, sono i professionisti della montagna e chi ha voglia di muoversi c'è prima di tutto le guide alpine insieme a tutto quello che è il mondo del club alpino che istradano nella mariera corretta e fanno formazione e prevenzione nella mariera corretta.